Il Negro Amaro o Negramaro si identifica da sempre con il territorio del Salento, del quale è un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Grandi estensioni di questi vitigni però si trovano anche in provincia di Taranto e di Brindisi. Le origini di questo vitigno risalgono alle prime colonizzazioni da parte dei Greci, avvenuto intorno al XVIII secolo a.C., durante le quali vennero portate nel sud della nostra penisola molte specie di vini, che ancora oggi sono utilizzate per produrre vini di elevata qualità. Tale origine è testimoniata anche dalla metodologia di potatura corta dei tralci ad alberello, tipica delle tradizioni greche che ancora sono utilizzate oggi. La fortuna del Negro Amaro è legata anche alla sua resistenza nei confronti delle più comuni malattie, che ha permesso a queste piante di sopravvivere anche durante i periodi peggiori. Fino a poco tempo fa queste uve erano utilizzate esclusivamente per il taglio di altri vini. Infatti il loro elevato contenuto di zuccheri le ha sempre rese adatte per essere uniti a uve del nord Italia o a quelle francesi, che al contrario hanno un contenuto alcolico più basso, ma venivano usate anche per dar loro colore. Verso gli anni 50 però i produttori del nord ridussero drasticamente la domanda e così i coltivatori di Negro Amaro si ritrovavano con un'eccedenza di uve e per evitare una crisi economica iniziano a realizzare un vino locale in purezza, riscuotendo tanto successo da entrare in brevissimo tempo nelle premissime posizioni dei vini venduti. La coltivazione di questo vitigno è iniziata lungo la costa ionica, ma poi si è diffusa in gran parte della Puglia. Attualmente può contare su ben 32.000 ettari vitati e quindi è tra le cultivar più diffuse in Italia. Il Negro Amaro è un'uva con bacche rosse, grandi e ovali, ed ha la buccia molto spessa, che si presentano in grappoli di forma conica e molto serrati tra di loro. Ogni pianta infatti produce moltissimi frutti, quindi per mantenere elevati gli standard qualitativi è necessario sfoltire e potare in modo adeguato il tralcio. Le viti sopportano bene il caldo, senza perderli di acidità, e non soffrono per le gelate che talvolta avvengono in Puglia. La vendemmia avviene fatta nel periodo che va da metà settembre fino ai primi di ottobre. Il Negro Amaro è un vino rosso, ben strutturato, ha tendenzialmente un colore abbastanza intenso, variabile anche su toni di rosso mattone per le qualità più invecchiate, e ha un volume alcolico abbastanza alto. Nelle sue versioni in purezza è ottimo con la carne, infatti può essere bevuto a supporto di primi piatti con ripieno, come ad esempio le lasagne alla bolognese o le tipiche orecchiette al ragù, e con secondi come stufati, arrosti e selvaggina. Inoltre si abbina molto bene anche alcuni formaggi mediamente stagionati. Il vino ha una profumazione tendente al fruttato e al floreale, con note di tabacco, ciliegia, viola e carruba, mentre al gusto si presenta con un medio tasso di acidità. Il Negro Amaro dovrebbe essere servito in bicchieri a calice standard a rosso, e a seconda dell'invecchiamento la bottiglia dovrebbe essere aperta da una a due ore prima di essere servita in tavola, non necessariamente in un decanter, che ne accelera comunque l'ossigenazione e ne accentua le caratteristiche. Il nome del Negro Amaro ovviamente è collegato al colore e al sapore. Secondo alcuni studiosi, deriverebbe dall'unione della parola latina niger, con quella greca mavros, che significano entrambe nero. Secondo altri, il nome è da riferirsi ad un termine dialettale, niarumaru, che oltre al colore scuro, indicherebbe il gusto leggermente amaro dell'uva. In altri casi, questo vino viene anche chiamato neroleccese, nicra amaro, ionico o arbese. Insomma, chiamatelo come volete, ma ricordatevi di assaggiarlo quando andrete a visitare la Puglia. Grazie a tutti.